Io ho visto un po' Pescara, non ho ancora visto bene le squadre, a Sansevero conosco tutti i giocatori, so che per questa categoria veramente c'è una squadra fortissima, infatti non so se ha perso una partita o nessuna ancora, se non è un caso. Speriamo, ti ripeto, io sono un giocatore umile che mi piace lavorare e fare le cose a voce bassa, lavorando e provando ogni giorno a rientrare meglio e bene in questa squadra. So che non è facile un giorno o l'altro entrare, già quando siamo a metà campionato, in una squadra, ma io mi rendo sempre a disposizione di tutti, spero di nuovo ti dico, dare il mio contributo positivo, un po' la mia esperienza, visto la mia età, che si parlava che non ho più vent'anni, io spero di aiutare, dare un po' un salto di qualità alle squadre, che penso che già è una squadra fortissima, spero che con me riusciamo a dare qualcositino in più.